Assumi una posizione comoda, possibilmente seduto, con i piedi appoggiati a terra, la schiena dritta ma non rigida e chiudi lentamente gli occhi e comincia a dare attenzione al tuo corpo fisico, puoi fare qualche respiro profondo, e per qualche momento dare piena attenzione, pieno ascolto alle tue sensazioni fisiche, come si sente il tuo corpo in questo momento, puoi aggiustare la posizione se ti sembra necessario, se ci sono zone contratte o in tensione puoi portare lì il tuo respiro, e resta in ascolto del tuo corpo, poi puoi interiormente ringraziare il tuo corpo perché è lo strumento meraviglioso che ti permette di vivere su questo piano, e poi puoi affermare dentro di te, io ho un corpo, ma io non sono il mio corpo, e mentre ti disidentifichi dal tuo corpo, puoi portare l'attenzione alle tue emozioni, che cosa stai provando in questo momento, e quali emozioni, quali sentimenti sono stati prevalenti per te in questa giornata, e quali sono prevalenti in questo periodo, e resti ad osservare per qualche momento il tuo piano emotivo, e prendi atto di quello che si sta muovendo, Poi puoi internamente ringraziare le tue emozioni, i tuoi sentimenti, perché danno spessore e intensità alla tua vita, e poi puoi affermare dentro di te, Io ho delle emozioni e dei sentimenti, ma io non sono le mie emozioni e i miei sentimenti, e mentre ti disidentifichi dal tuo piano emotivo, puoi portare l'attenzione alla tua mente, ai tuoi pensieri. Che cosa stai pensando in questo momento? e quali pensieri, quali filoni di pensiero si muovono in particolare in questo momento della tua vita? che cosa occupa la tua mente? resta ad osservare e poi puoi internamente ringraziare la tua mente e i tuoi pensieri, perché sono lo strumento potente che ti permette di capire e di dare un senso all'esistenza. e poi puoi affermare dentro di te, io ho una mente e dei pensieri, ma io non sono la mia mente e i miei pensieri. e mentre ti disidentifichi dalla tua funzione mentale, puoi portare l'attenzione al tuo Io, al tuo centro, puoi visualizzarlo come un punto luminoso al centro del petto, la tua natura profonda, la tua realtà essenziale. e a poco a poco ti auto-identifichi, ti identifichi col tuo centro, col tuo Io, e puoi affermare dentro di te, Io ho un corpo, ma io non sono il mio corpo. Io ho delle emozioni, ma io non sono le mie emozioni. Io ho dei pensieri, ma io non sono i miei pensieri. Io sono un centro di pura coscienza. Io sono io. Io sono io. Io sono io. E lasciamo che questa affermazione si radichi dentro di noi e restiamo in silenzio qualche momento. ... Io sono io. Grazie a tutti. Grazie.